Ah, j'veus etre l'amour d'un cowboy, j'veus un jour mani le lasso, ne valade e achevano la plena, o si visite l'Ouest canadien, j'veus entendre che io dans la nuit, voire le soleil si luverne mattem, j'veus etre l'amour d'un cowboy, car j'pourrais etre l'ibro a fare... E tu senta qualcosa da dichiarare? No, no, niente, non abbiamo niente, buonasera, salve, controllo, abbiamo detto adesso alla collega che non abbiamo niente da dichiarare, è un semplice controllo, si ma noi siamo marito e moglie che stavamo un attimino, è un semplice controllo, dai, c'è niente da preoccuparsi, fate piano. Da dove ne venite? È da Lourdes, che è un pellegrinaggio, madonna. Questa cos'è? È quella, è l'acqua benedetta, santa, 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 madonna. Sì, è l'acqua santa, 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 da Lourdes? Da Lourdes, è benedetta, questa è grappa, 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 è Grazie.